buon di buona gente sono luigi in arte elusio e benvenuti a questa nuova video lezione è la terzo questo è il tentativo numero 3 in cui cerco di registrare questo video non vi dico il calvario va bene dai ritorniamo un attimo alla via vecchia per abbandoniamo un attimo la via nuova per la vecchia perché ragazzi non obbio non posso stressarmi non in questo periodo in cui proprio i miei livelli di stress sono alti così sì le mani sono uscite volutamente fuori dall'inquadratura per farvi capire proprio i livelli di stress quindi vabbè non divagghiamo oltre e iniziamo subito perché voglio subito iniziare a parlare dell'argomento di questo video perché siamo giunti anche alla fine di questa miniserie e dopo tre video in cui ci siamo soffermati su uno scenario che si concentrava unicamente sui primi due princeps dell'impero romano ovvero augusto e tiberio con quest'ultimo video copriamo il re la buona buona parte della restante storia della dinastia giulio claudia con gaio detto caligola claudio e nerone complice anche il fatto che questi tre sono durati in meno dei loro predecessori e l'ultima protagonista di questa miniserie ecco lei ecco lei che chiude il novero delle donne di potere che hanno costellato questa prima dinastia imperiale una donna che ha avuto la maledizione di essere passata alla storia principalmente in funzione degli uomini che hanno condiviso il suo destino in particolare suo figlio oggi chiudiamo questa miniserie con agrippina minore la madre di nerone dopo olivia e la sua intelligenza fredda il suo acume calcolatore che avevano segnato e contribuito al suo trionfo dopo giulia e la sua dissenatezza che l'aveva condotta alla rovina e dopo agrippina maggiore e il suo potenziale sprecato a causa di errori tattici e di intrighi di altri la scena è pronta per agrippina minore che avrebbe cercato di prendere il meglio degli insegnamenti di chi l'aveva preceduta ovvero sua madre sua nonna e la sua bisnonna con quali esiti molti di voi sicuramente già lo sapranno perché invece ancora non lo sa lo vedrete alla fine di questo video e come sempre iniziamo dal principio agrippina nacque il 6 novembre dell'anno 15 dopo cristo in un accampamento militare romano stanziato presso quella che oggi è la città di colonia in germania era la quarta figlia di germanico nipote del prince princeps slash imperatore tiberio e di agrippina maggiore la figlia di giulia figlia di augusto nel periodo in cui lei venne alla luce suo padre germanico era impegnato nella campagna militare atta ad estendere i possedimenti romani in terra germanica la sua stessa madre quando ancora la portava in grembo fu protagonista di un evento ad alto tasso di figaggine per farvi capire con quali di quali persona di quale personalità stiamo andando a parlare oggi allora il fatto era questo a causa di una ritirata dell'esercito romano che era inseguito dagli eserciti teutonici i soldati presenti nell'accampamento in cui pochi mesi dopo sarebbe nata agrippina decisero di distruggere il ponte sul fiume reno che collegava l'accampamento all'altro capo della riva ma ciò avrebbe segnato la sorte dei soldati in rotta che sarebbero stati tutti uccisi dai germanici per evitare questo stilicidio agrippina maggiore che all'epoca era in stato di gravidanza si oppose a questa decisione e si piazzò lei stessa sul ponte per evitare che venisse distrutto riuscendo così a salvare un buon numero di soldati feriti e in fuga lo so agrippina minore c'entra poco con questo evento ma se consideriamo che ancora prima di nascere si trovava nel bel mezzo di eventi del genere possiamo solo immaginare cosa sarebbe accaduto in seguito nel bene e soprattutto nel male come canta anche madame nei suoi primi anni di vita la piccola agrippina seguì l'itinerario della sua famiglia composta dai suoi genitori i suoi tre fratelli maggiori nerone druso e gaio detto caligola e da due sorelline minori che nacquero dopo di lei drusilla e livilla dopo la fine della missione del padre in germania e dopo un breve soggiorno a roma la famiglia venne mandata in siria e in antiochia per stringere rapporti con i regni confinanti con i territori occupati da roma fu in questa circostanza che germanico morì nel 19 dopo cristo sebbene alcuni storici ipotizzino che morì di morte naturale all'epoca si pensò che fosse stato abbelenato per ordine di tiberio geloso del successo politico e militare che il nipote stava ottenendo ho già parlato ampiamente di questa storia nel precedente video su agrippina maggiore ribadirlo anche qui mi porterebbe via molto tempo per cui andiamo avanti all'età di quattro anni agrippina seguì la madre affranta assieme ai fratelli maggiori e alle sorelle minori nel suo rientro a roma con l'urna contenente le ceneri di suo padre con quel ruolo di figlia orfana di padre agrippina entrava ufficialmente nella storia di roma e sul palcoscenico della vita pubblica con la morte del padre agrippina le sue sorelline e il suo fratellino gaio che per comodità da adesso chiameremo caligola anche se bisogna specificare che lui detestò sempre quel nomignolo ebbene i piccoli di casa vennero accolti nella casa di tiberio sotto la tutela della bisnonna la sempre presente e attiva livia che si preoccupò di dare ai quattro bambini un'educazione degna dei figli della casa di augusto non sappiamo con certezza se caligola drusilla e livilla avessero una particolare attitudine allo studio ma sappiamo che agrippina brillava molto in questo campo dimostrò fin da piccola di essere particolarmente dotata in molti campi sia di tipo matematico che letterario e questa diseducazione oltre all'influenza della bisnonna avrebbero molto influenzato il suo successivo sviluppo inoltre sembra che in questa prima fase della loro vita caligola iniziò a nutrire un forte attaccamento nei confronti delle tre sorelle minori in particolare per la sorella mezzana drusilla che era la sua prediletta la leggenda nera in seguito avrebbe adombrato questo forte legame con l'ombra dell'incesto io come dico sempre vi invito a non dare troppo pervere certe voci soprattutto se sappiamo in quale ambiente nacquero ma arriveremo tra poco a parlare di caligola e della sua psicologia abbastanza contorta con la morte di livia venuta a mancare a più di 80 anni nel 29 dopo cristo e la caduta in disgrazia della loro madre agrippina maggiore e del loro fratello maggiore nerone vittime entrambi degli intrighi del console lucio elio seiano i piccoli o meglio i giovani figli di germanico e di agrippina maggiore vennero affidati alle cure della nonna paterna antonia minore o antonina così chiamata per differenziarla da sua sorella maggiore anche lei di nome antonia le due antonie erano le figlie che ottavia la sorella di augusto aveva avuto dal suo secondo marito marco antonio antonina che era la vedova di druso e cognata di tiberio si era sempre differenziata dal resto della gense iulia per la sua strenua fedeltà a livia e di conseguenza anche a tiberio cosa che le rese la vita molto facile all'interno della famiglia cosa non da poco visto l'andazzo in quell'ambiente familiare abbastanza tossico e fu proprio nella casa paterna che il giovane caligola sarebbe entrato in contatto con quell'universo aristocratico composto dai rappresentanti dei regni orientali confinanti e alleati con roma che avevano trovato come punto di incontro proprio la residenza di antonina fu qui che si formò il futuro pensiero monarchico di stampo orientale che avrebbe caratterizzato il futuro regno di caligola un pensiero che magari a un'occhiata superficiale potrebbe ricordare le aspirazioni monarchiche del suo bisnonno marco antonio o di sua nonna materna giulia ma in realtà come vedremo fu molto più estremo con caligola ma agrippina al tempo in cui caligola drusilla e libilla erano passati sotto la tutela della nonna paterna ebbene lei aveva già lasciato la casa di augusto e la tutela della bisnonna infatti nel 28 all'età di 13 anni andò sposa andò in sposa a neodomizio enobarbo un suo cugino di non so bene quale grado essendo figlio di antonia la sorella maggiore della nonna della nonna paterna antonina e lui come potete ben già qui immaginare era più vecchio di agrippina di ben 30 anni al bene allora vi siete segnati il nome di neodomizio enobarbo sì ve lo siete segnato bene potevate evitare tanto i mariti di agrippina salvo un'unica eccezione sono totalmente inutili ai fini della narrazione scusate ragazzi va detto pane al pane vino al vino allora è probabile che questo matrimonio allontanò agrippina dall'occhio del ciclone che si stava battendo in quegli anni sulla sua famiglia infatti nel 31 suo fratello maggiore nerone che era stato relegato sull'isola di ponza per ordine di tiberio fu costretto a togliersi la vita mentre sua madre agrippina maggiore e l'altro fratello maggiore druso nel 33 furono condannati a morire di inedia lei relegata sull'isola di ventotene lui rinchiuso nei sotterranei del palazzo augusteo in quello stesso anno anche le sue due sorelle minori vennero date in sposa ad esponenti del senato forse per essere anche loro allontanate dai sommovimenti sorti attorno a quello che era stato il circolo di amicizie della loro madre agrippina mentre invece tiberio prese sotto la sua tutela il giovanissimo gaio caligola considerando le catombe di buona parte dei discendenti maschi della gensi iulia può sembrare strano che tiberio avesse deciso di allevare il figlio di colei che era stata la sua mortale nemica per farlo diventare de facto il suo erede tanto da portarlo con sé portarlo con sé a capri dove aveva deciso di allontanarsi dal centro del potere di roma ma banalmente semplicemente tiberio sperava di rendere il giovane caligola una sua creatura di ecco plasmarlo a sua immagine favorito dal fatto che il piccolo gaio caligola era giovanissimo e diciamo era un lavoro di conversione più facile che se piuttosto che non avrebbe potuto fare con i figli maggiori di agrippina maggiore ovvero nerone e druso che erano già troppo adulti ed erano troppo figli della loro madre nel mentre agrippina trovò più conveniente continuare a tenere un profilo basso temendo sempre che tiberio potesse valutare seriamente l'eventualità di eliminare il resto della progenie di germanico e di agrippina maggiore cioè loro e secondo alcuni storici questa decisione sta anche alla base del fatto che lei e suo marito non ebbero figli per tutti i primi nove anni del loro matrimonio nonostante agrippina possa aver raggiunto l'età fertile già due anni dopo il matrimonio ovvero a 15 anni secondo alcuni storici agrippina non voleva rischiare di alimentare ulteriori paranoie e manie di persecuzioni nel prozio qualora avesse avuto dei figli maschi avrebbe avuto anche lei dei figli ma a tempo debito quando tiberio sarebbe uscito fuori di scena cosa che avvenne il 16 marzo del 37 quando tiberio morì di morte apparentemente naturale nella sua villa di capri le solite voci di corridoio ipotizzano che forse la sua non fu una morte naturale ma venne bensì aiutato a morire se capite cosa intendo ma anche in questo caso prove certe non ne abbiamo forse se vogliamo azzardare un'ipotesi tiberio potrebbe non essere morto ma bensì caduto in stato di coma dal quale si sarebbe risvegliato poi in un secondo momento quando ormai le persone attorno a lui lo avevano già dato per morto e avevano già passato le redini dalle redini del potere al giovane gaio caligola e vedendo tiberio risvegliarsi lo avrebbero soffocato coprendogli il viso con stracci e coperte con la morte di tiberio e la salita al potere del giovane caligola venne segnato il riscatto definitivo della gens iulia dopo anni in cui erano stati schiacciati dalla gens claudia rappresentati principalmente da livia da e da livia e da tiberio quel riscatto per il quale la povera agrippina maggiore tanto aveva lottato e fu proprio per onorare la madre troppo a lungo bistrattata sotto il precedente regime che come primo atto da nuovo princeps caligola fece riportare le ceneri di sua madre agrippina e di suo fratello maggiore nerone dalle isole di ventotene e di ponza affinché riposassero nel mausoleo di augusto a roma i resti invece dell'altro fratello druso purtroppo non vennero ritrovati questo nuovo regime segnò il riscatto anche delle tre sorelle di caligola in primis la sua prediletta drusilla agrippina drusilla e livilla ottennero onori pari a quelle spettanti all'augusta precedentemente detenuti dalla bisnonna livia e vennero celebrate su coni monetari investi rispettivamente di tre divinità molto celebrate a roma ovvero la dea securitas la dea della sicurezza la dea fortuna e la dea concordia e anche se le voci sul fatto che caligola intrattenesse rapporti incestuosi con tutte e tre le sorelle continuarono a circolare sia allora che per i secoli a venire un altro della famiglia che poteva ottenere un riscatto fu il 47enne zio claudio fratello del loro padre germanico da sempre ritenuto lo zimbello della famiglia a causa del suo essere goffo affetto da zoppia e ritenuto tardo per non dover usare un termine più brutto a causa della sua balbuzie in realtà claudio era un uomo molto colto e intelligente forse secondo alcuni storici moderni era affetto da una qualche forma di autismo ma rimaneva comunque uno dei pochi membri veramente equilibrati della famiglia di augusto ingiustamente bistrattato dal resto della famiglia compresa sua madre antonina che lo definiva un uomo a malapena abbozzato soltanto per le sue caratteristiche fisiche più evidenti e ignorando invece le sue doti e le sue qualità non solo letterarie ma anche militari vivendo ora nel trionfo e nella sicurezza agrippina col marito pensarono che fosse giunto il momento per avere un erede e il 15 dicembre di quello stesso anno 37 agrippina diede alla luce suo figlio lucio domizio enobarbo quello che noi oggi conosciamo come nerone a questa nascita si associa si associa una leggenda secondo la quale un indovino caldeo avrebbe profetizzato ad agrippina che suo figlio un giorno sarebbe diventato princeps di roma ma poi l'avrebbe uccisa e agrippina a questa profezia avrebbe risposto mi uccida pure purché regni come dico sempre non esprimete i vostri desideri più profondi potrebbero avverarsi il regno di caligola per quanto breve se confrontato a quello dei suoi due predecessori con i suoi soli tre anni di durata fu comunque importante perché segnò il vero spartiacque tra l'apparenza semi repubblicana che augusto aveva mantenuto per calcolo politico e tiberio aveva perpetrato per sincera fedeltà agli ideali repubblicani e soprattutto per mantenere buoni rapporti col senato quindi da questa fase in cui ancora ci si appoggiava al senato e si fingeva ancora di essere in una repubblica a uno stato in cui si sapeva che ormai il vero centro del potere era rappresentato dal princeps ora c'è da dire che ciò era dovuto anche ai continui cambi generazionali avvenuti negli ultimi decenni già al tempo della morte di augusto era avvenuto un importante cambio generazionale già al tempo in cui augusto veniva a mancare erano pochi quelli che si ricordavano gli anni della repubblica e al tempo di caligola non rimaneva più nessuno che si ricordasse di un'epoca in cui non ci fosse stato un princeps a tenere le redini del potere a roma anche se rimaneva comunque vivo il senso di indipendenza all'interno della nobilitas senatoria che sarebbe rimasto un fattore perenne anche nei secoli a venire teniamo sempre a mente che buona parte delle leggende nere sorte attorno alle figure degli imperatori nacquero proprio all'interno della classe senatoriale e così come si mormorava che tiberio si fosse ritirato a capri per meglio compiere nefandezze e praticare atti impuri a suo piacimento anche con caligola non mancarono di sorgere voci attorno al suo comportamento non ortodosso o per meglio dire sul suo squilibrio mentale il declino mentale di caligola se di questo si trattava sempre tenendo in considerazione che potrebbe trattarsi di resoconti divulgati da chi aveva interesse a dare di lui un'immagine di folle tiranno ebbene questo declino iniziò già pochi mesi dopo la sua nomina quindi sempre nell'anno 37 dopo una sua malattia talmente grave al punto da far pensare che fosse in punto di morte e a spingerlo a nominare sua erede la sorella prediletta drusilla e di conseguenza il marito di lei marco lepido ma caligola si riprese invece paradossalmente a morire l'anno dopo fu proprio drusilla che si spense a soli 21 anni da qui sembra che iniziò il declino inarrestabile della stabilità mentale di caligola se davvero ci fu non si sa se si di un residuo della malattia che ebbe se si trattasse di un qualcosa di congenito se fosse romanticamente dovuto al dolore per la morte della sorella tanto amata o se non fosse in realtà non tanto la pazzia quanto puro e semplice desiderio di potere con la dovuta corruzione che ne derivava i vari episodi che vengono portati come prova della sua follia in realtà dimostrerebbero non tanto la sua pazzia quanto appunto il suo desiderio di ritagliarsi un ruolo di comando autonomo facciamo ad esempio l'esempio fare un esempio ecco prendiamo l'esempio più più noto quello in cui lui che fece nominare console il suo cavallo preferito incitatus ebbene in realtà secondo alcuni storici questo gesto non fu un atto di pazzia ma fu un'offesa gratuita che caligola volle fare ai senatori come a dire siete talmente incompetenti che posso nominare console il mio cavallo e lui farebbe un lavoro migliore del vostro quindi era semplicemente una frecciatina ma anche molto sottile e arguta se si può dirlo ma non è che pensava davvero di rendere console il suo cavallo la vera ragione dell'odio in cui caligola finì per incorrere non risiede tanto nella sua pazzia vera o presunta che fosse ma bensì nella sua tendenza a voler essere un sovrano di una monarchia teocratica in cui il re era l'incarnazione di una divinità cosa che è potuta derivare dal contatto che lui ebbe in giovane età nella casa di sua nonna antonina con i rappresentanti dei regni orientali sotto il gioco di roma sembra probabile che caligola intendesse convertire il principato romano in una sorta di monarchia orientaleggiante ma non sulla falsa riga ventilata dal suo bisnonno marco antonio o da sua nonna giulia ma bensì su un modello proprio teocratico in cui lui in quanto sovrano era visto come un dio sceso in terra caligola non sarà il primo princeps romano a voler puntare a questo tipo di governo anzi il regno per diritto divino sarebbe stato alla base di buona parte della maggior parte delle monarchie europee dal medioevo fin quasi all'ottocento e non sarà l'unico a scontrarsi con un muro di opposizione da parte del senato o dell'esercito che potevano anche accettare l'imperium di un singolo purché ciò non andasse in conflitto con la nobilitas senatoria e soprattutto che non mischiasse la loro civiltà romana con quelli che per loro erano usi e costumi barbari e quindi inferiori furono anche queste prime forme di opposizione che si trovano che stanno alla base di un primo complotto che venne ordito contro caligola e che venne caldeggiato addirittura dalle sue stesse sorelle superstiti ovvero agrippina e livilla coadiuvate anche dal vedovo della defunta drusilla marco lepido col quale si dice che la stessa agrippina avesse stretto una relazione adulterina questa congiura svoltasi nel 39 non ebbe un esito felice venne sventata e caligola condannò lepido a venire giustiziato mentre le due sorelle vennero relegate condannate alla relegatio in insulam livilla venne mandata a ponza agrippina invece venne spedita sulla famigerata isola di ventotene dove sua madre era morta agrippina fu anche costretta a lasciare suo figlio lucio domizio affidandolo alle cure di sua cognata domizia lepida la quale rimpallò la tutela del bambino ad un mimo e ad un barbiere quindi il futuro nerone venne cresciuto da povera gente che alimentò non solo il suo amore per l'arte ma anche un suo senso di vicinanza al popolo elementi che non vanno trascurati quando si cerca di analizzare studiare la figura di nerone spogliandola anche la della leggenda nera agrippina relegata a ventotene rimase nuovamente in sordina mentre nubi di tempesta si ammassavano nuovamente sulla sua famiglia ciò paradossalmente le evitò la tragedia che avrebbe segnato l'ultimo anno di regno di caligola nel mentre nell'anno 40 venne a mancare suo marito niodomizio inobarbo ma agrippina non poté ereditarne i beni perché le vennero confiscati da caligola come già detto l'ultimo anno di regno di caligola fu un lento e inesorabile scavamento di fossa che caligola stesso per petrofons con i suoi eccessi forse senza nemmeno rendersene conto se tiberio si era lasciato corrompere dal potere alimentando le sue manie di persecuzione e le sue tendenze maniaco depressive caligola si lasciò corrompere dal potere alimentando un delirio di ogni potenza che molti videro inizialmente con fastidio poi con sempre più crescente timore alla fine il 24 gennaio del 41 mentre si celebravano i ludi palatini un gruppo di guardie pretoriane lo assalì mentre stava attraversando il portico che collegava il suo palazzo al teatro annulla valse la difesa delle sue guardie germaniche caligola all'età di 28 anni e dopo so di tre anni di regno venne ucciso da ben 30 pugnalate secondo quanto riportato da svetonio ma quel giorno caligola non fu l'unico a fare una fine orribile anche la sua quarta moglie milonia cesonia e la loro unica figlia giulia drusilla di appena un anno e mezzo furono uccise in maniera barbara dai pretoriani se per caligola potevano esserci delle motivazioni l'uccisione di cesonia e soprattutto della piccola giulia drusilla fu un atto di crudeltà fine a se stessa motivato unicamente dal solo desiderio di spazzare via l'intera linea di sangue di quello che era visto come un dittatore come un tiranno voglio dire preferisco non scendere troppo nei dettagli di questo di questo triste evento anche perché ci farò un video a parte per la mia rubrica di history of the dragon in cui metterò in parallelo il massacro di milonia e di sua figlia con un altro episodio simile presente nelle cronache del ghiaccio e del fuoco i lettori già sanno di cosa parlo quindi tengo in caldo l'argomento non lo sviscerò qui ma ne parlerò nel prossimo video in maniera più approfondita e intanto andiamo avanti eliminato caligola subito si presentò la necessità di riempire quel vuoto di potere lasciato vacante e per uno di quegli strani scherzi del destino il titolo di princeps cadde sulla testa della persona che meno ci si sarebbe aspettati di vedere ricoprire tale ruolo dopo il tirannicidio i pretoriani si accorsero di qualcuno nascosto dietro un tendaggio scostarono quella tenda e chi vi trovarono tremante di paura che chiedeva pietà per la sua vita lo zio di caligola claudio sì l'ultima ruota del carro il bistrattato della famiglia al tempo già cinquantenne i pretoriani invece di uccidere anche lui lo presero in consegna e lo tenero sotto sorveglianza intanto che si decidevano le sorti di roma alla fine incentivato dalle persone attorno a lui e promettendo donativi ai soldati guadagnandosi così il loro sostegno fu claudio a venire acclamato imperator e nuovo princeps questo nuovo cambio di regno repentino permise ad agrippina e livilla di ritornare a roma dal loro esilio e di riottenere i loro ruoli di prestigio in quanto nipoti del nuovo princeps e in più agrippina poter ricongiungersi con suo figlio lucio domizio e per sopperire alla sua mancanza di mezzi riuscì grazie all'intercessione dello zio claudio a farsi sposare in seconde nozze dal console gaio sallustio passieno crispo una personalità di spicco nella roma di quel tempo col principato di claudio che fu sicuramente uno dei migliori della dinastia giulio claudia o comunque il meno peggio in assoluto si vanno delineando le direttive di potere che maggiormente associamo all'impero romano in cui il potere viene sempre più accentrato nelle mani di uno solo il princeps appunto cosa che non era avvenuta con i suoi predecessori non con augusto che era troppo impegnato a mantenere la sua ambivalenza per non inimicarsi il senato non con tiberio troppo impegnato ad evitare problemi abdicando ai suoi doveri e non con caligola troppo concentrato a tentare di costruire di instaurare una monarchia simile orientale con claudio invece vediamo il passo successivo che aveva la formazione dell'impero romano vediamo un livellamento delle ingerenze senatorie con la sostituzione nelle mansioni pubbliche di persone a lui fedeli che principalmente erano tutti quanti liberti ovvero ex schiavi liberati e questi liberti erano persone viste con molto sospetto dall'elite aristocratica appunto per il loro passato di schiavi ma in realtà questi liberti erano selezionati e scelti in maniera molto oculata da claudio per le loro capacità e competenze se troviamo quindi in un ambiente già più meritocratico praticamente quello che i reali inglesi non sono ancora riusciti a fare fino ad ora con i loro collaboratori e cortigiani l'unico vero problema di claudio risiedeva nel fatto che era molto facile da manipolare e questo probabilmente era frutto della grande disistima che lui provava per se stesso alimentata anche dal fatto che lui era cresciuto in un ambiente dove era molto disistimato se non addirittura bullizzato dai suoi proprio dai suoi parenti se con caligola agrippina e le sue sorelle avevano potuto godere di un trattamento pari a quello che aspettava alla domina augusta con claudio tale titolo era stato preso dalla sua terza moglie valeria messalina più giovane del marito di ben 35 anni e madre dei suoi due figli ottavia e britannico e donna molto attaccata al potere e che non si preoccupava di nasconderlo anzi lo sbandierava ai 4 20 fu proprio messalina lo scoglio che agrippina e livilla si ritrovarono ad affrontare non appena rientrate a roma e solo agrippina sarebbe rimasta in piedi in questa partita a scacchi infatti invidiosa di livilla secondo alcuni messalina accusò livilla di aver commesso adulterio col filosofo seneca e per questo la mandò di nuovo in esilio stavolta anche lei a ventotene e la fece morire di inedia comprendendo la malaparata come si dice dalle mie parti agrippina pensò bene di ritirarsi da roma col figlio lucio domizio e si trasferì a padova venne richiamata successivamente da un liberto di nome pallante col quale aveva mantenuto un contatto per rimanere aggiornata sugli ultimi sviluppi a roma ebbene pallante la invitò a ritornare a roma quando l'astro di messalina stava iniziando a tramontare infatti lo strapotere di messalina andava in netta opposizione contro in netta opposizione all'influenza dei liberti che formavano l'entourage più stretto di claudio infatti sebbene anche su messalina se ne siano dette tante o meglio troppe assegnare la sua caduta non furono le sue sprenatezze sessuali né il fatto che come si disse come si disse allora stesse orchestrando una congiura per uccidere il marito e mettere al suo posto un suo amante no bensì risiede il tutto in una lotta sotterranea che si stava svolgendo da anni tra messalina e il partito dei liberti per ottenere la maggiore ascendenza la maggior per ottenere maggior influenza sul fin troppo manipolabile claudio lotta alla quale si sarebbe unita la stessa agrippina quando si rese conto che la caduta di messalina avrebbe potuto favorire non solo la sua la sua non solo la sua ascesa ma anche quella di suo figlio lucio domizio sul quale continuava ormai coltivava ormai i piani di potere indipendentemente dal fatto che la storia della profezia del dell'indovino caldeo sia vera oppure no rimasta vittima della congiura dei liberti capeggiata dal liberto più fedele di claudio narcisso messalina fu uccisa dai pretoriani nel 48 manco a farlo apposta agrippina era rimasta nuovamente vedova l'anno prima coincidenze coincide crede io non denze coincide l'ho detto bene sì ok allora c'è chi pensa che passieno crispo venne avvelenato dalla stessa agrippina sia per ottenere la libertà di risposarsi con un partito più alla sua altezza sia per per ereditare i suoi beni diciamo che se la questione dell'eredità può essere un valido movente il fatto che agrippina avesse avvelenato il suo secondo marito per rimanere di nuovo opportunatamente vedova e disponibile sulla piazza quando avrebbe potuto all'occorrenza semplicemente divorziare senza creare troppi scompigli rende la teoria dell'avvelenamento ecco un po zoppicante ma non è tanto da escludere dal momento che come vedremo agrippina avrebbe usufruito del veleno in altre circostanze comunque commessa lina definitivamente fuori dai giochi di potere e fuori anche da questa da questo piano esistenziale agrippina comprese che ha raggiunto il suo momento di rientrare in scena e stavolta non da personaggio secondario o da comprimario o da o da semplice comparsa ma bensì da protagonista il suo alleato il liberto pallante patrocinò agrippina come quarta moglie di claudio nonostante i due fossero zio e nipote e per fare questo ci si basò sul fatto che molti popoli entrati a far parte dei domini romani avevano già la pratica di fare questo tipo di unioni tra consanguinei per cui fu facile convincere il senato a barare seppure a denti stretti e controvoglia una legge che permettesse un matrimonio tra zio e nipoti comunque sia il matrimonio tra claudio e agrippina seppure fece storcere il naso ad un bel po di persone non ebbe nessun carattere di tipo sessuale diciamo così era una semplice unione di rappresentanza aveva un valore più che altro simbolico e avevano entrambi da guadagnarci da questa unione claudio nello sposare sua nipote poteva dire di essersi legato con la parte iulia della sua famiglia dal momento che lui rappresentava la sola parte claudia della famiglia augustea mentre invece agrippina era una discendente in linea diretta da augusto mentre invece agrippina ovviamente ci guadagnava non solo il ruolo di augusta ma soprattutto la possibilità di inserire suo figlio lucio domizio nella linea di successione così nel 49 agrippina sposò suo zio claudio da qui iniziò la scalata al potere vero e propria di agrippina e possiamo dire che fu un ritorno agli tichi fasti della sua bisnonna livia infatti a differenza di sua madre agrippina maggiore e di sua nonna giulia agrippina dimostrò un'abilità nella gestione del potere molto simile a quella di livia anzi per differenziarsi da chi l'aveva preceduta ovvero messalina in quanto augusta e tiberio e cali e soprattutto caligola in quanto veri detentori del potere agrippina scelse di ritornare all'originario connubio tra principato augusteo e senato tradizionale sull'onda della riproposizione degli antichi valori repubblicani un ritorno quindi alla res pubblica restituta in altre parole ma sempre in apparenza ovviamente e già come fece livia agrippina scelse di operare nel segreto dei suoi appartamenti avvalendosi della collaborazione dei suoi fedelissimi come il già citato liberto pallante il filosofo seneca che era diventato istitutore di suo figlio e il prefetto del pretorio a franio burro a questo periodo risale anche l'inizio della stesura delle sue memorie della sua autobiografia allora stilare la propria autobiografia era una pratica che era già stata instaurata da augusto all'interno della agenza julio claudia ma fu agrippina a farne un impegno serio con chiare finalità divulgative non più come un semplice esercizio di stile o come un diario personale no no agrippina iniziò a scrivere la sua autobiografia col chiaro intento che venisse rilasciata arrivasse fino alle generazioni rimanesse in eredità alle generazioni future basti pensare che queste memorie questa autobiografia sopravvisse per i successivi anni a avvenire tanto da servire come fonte primaria per tacito e svetonio per i loro annali storici su questo particolare periodo della storia di roma purtroppo le l'autobiografia di agrippina non è giunta fino a noi nemmeno in forma mutila il che credo che sia una delle sfortune più grandi per quanto riguarda la conoscenza diretta di quel periodo quasi sicuramente penso che l'autobiografia di agrippina se fosse supervissuta a fine giorni nostri sarebbe probabilmente uno dei testi storici più importanti in assoluto allora a parte il consolidare il proprio status e il proprio potere agrippina si però anche per preparare suo figlio al futuro ruolo di princeps e per farlo riuscì a convincere claudio ad adottarlo come suo erede o meglio come suo coerede rispolverando la pratica di avere due eredi come già avevano fatto i suoi predecessori da una parte claudio poteva mantenere come suo erede fisso il figlio britannico e al contempo poteva affiancargli lucio domizio come coerede che proprio in questa circostanza ovvero con l'adozione da parte di claudio assunse il nome di tiberio claudio nerone druso germanico o per tutti nerone semplicemente per consolidare il legame ereditario agrippina decise poi di ricorrere alla stessa mossa usata da libia a suo tempo quando fece sposare tiberio con giulia convinse claudio a far sposare nerone con ottavia la primogenita di claudio quindi sorellastra adottiva di nerone in questa scelta si vede quanto agrippina ci vedesse lungo e fosse consapevole di quanto suo figlio dipendesse dal far parte della gens claudia per ottenere il potere e sapeva quindi quanto ottavia fosse una pedina preziosa nella scacchiera del potere peccato che di queste sottigliezze nerone non comprese mai niente come vedremo tra poco agrippina ebbe gioco facile con claudio che come ho detto era facilmente manipolabile e influenzabile così col patrocinio di agrippina che in una maniera talmente plateale ed evidente che manco avesse avuto un insegna al neon che lampeggia sopra con su scritto sto pianificando la conquista del potere dritto sulla testa bene lei più di tutti aveva voluto queste nozze nel 53 nerone e ottavia vennero fatti sposare all'età rispettivamente lui di 16 anni lei di 13 anni adesso non restava che togliere di mezzo l'ultimo ostacolo rappresentato da britannico il figlio ed erede di claudio ma per agrippina non dovette sembrare un ostacolo poi così grande britannico era più piccolo di nerone avendo solo 12 anni in più era cagionevole di salute essendo affetto da epilessia seppure fosse vissuto abbastanza da diventare adulto difficilmente claudio avrebbe lasciato l'impero nelle mani di un ragazzo malato o almeno agrippina contava su questo ma non aveva fatto i conti col fatto che claudio un anno dopo le nozze della figlia col figliastro sembrò ritornare sui suoi passi per quanto riguardava il la discendenza e l'eredità forse messo sull'avviso dalla fin troppo plateale ambizione di agrippina furono le voci sul fatto che claudio avesse cambiato il suo testamento e che quindi adesso designasse come suo solo erede il figlio britannico a mettere in moto quella catena di eventi che avrebbero portato agrippina a collocare suo figlio nel ruolo di nuovo princeps e segnando in questo modo il destino di tutti non solo il suo ma anche quello dei due figliastri ottavia e britannico dell'istitutore seneca diafranio burro e di tante altre personalità che sarebbero entrate a far parte della vicenda di nerone che fossero vere o meno queste voci sul fatto che claudio avesse cambiato testamento tanto bastarono per mettere in allarme agrippina si ripeteva lo stesso schema già visto nella storia di libia e augusto quando si pensava che quest'ultimo volesse lasciare come suo erede l'ultimo nipote maschio rimasto gli agrippa postumo e però non pote farlo perché morì in maniera repentina con la differenza che se ci sono dei ragionevoli dubbi sull'avvelenamento di augusto pochi dubbi sussistono sul fatto che agrippina abbia fatto avvelenare claudio il 12 ottobre del 54 dopo un banchetto claudio si sentì male dopo aver mangiato un piatto di funghi venne condotto nelle sue stanze per essere curato e acudito dal suo medico ma fu tutto inutile il giorno dopo venne annunciato pubblicamente che claudio era morto durante la notte e che il suo figlio adottivo nerone era il nuovo princeps di roma sebbene anche in questo caso alcuni storici avanzino l'ipotesi che claudio possa essere morto di morte naturale stavolta la tesi dell'avvelenamento risulta più consistente anche se non si sa se claudio venne avvelenato durante il banchetto tramite il piatto di funghi che era anche il suo piatto il suo cibo preferito oppure invece durante la notte mentre il suo medico lo stava curando tra virgolette quindi che so facendogli ingerire dei purganti che in realtà erano velenosi facendogli un clistere altrettanto pieno di veleno eccetera eccetera o addirittura facendogli infilandogli in gola una piuma intinta nel veleno con la scusa di infilandogli una piuma in gola con l'intento di farlo vomitare ma usando una piuma intinta nel veleno fatto sta che se di veleno si trattò ci fu dietro la mano di agrippina che si servì non solo della collaborazione di servi medici e liberti i suoi alleati ma anche di una nota avvelenatrice dell'epoca la famosa locusta a questo giro agrippina svolse un ruolo molto simile a quello di alicent hightower di martiniana memoria forse più la alicent del libro fuoco e sangue più che quella che di quella della serie tv house of the dragon quindi nel un alicent hightower che tiene nascosta la morte di di viseris intanto che sta mettendo fuori dai giochi la reale erede legittima regnira e favorisce suo figlio egon quindi fa tutti gli intrallazzi e solo cose fatte quando ormai tutto pronto comunicano la morte del del re e la la salita al trono del nuovo re ecco agrippina questo giro è stata la alicent della situation mentre che teneva nascosta la morte di claudio per il tempo necessario di assicurare la successione a favore di suo figlio nerone e fingendo di essere una matrigna amorevole desiderosa di proteggere i suoi poveri figliastri britannico e ottavia tenendoli rinchiusi nelle loro stanze e facendoli uscire solo a cose fatte quando ormai nerone era stato ufficialmente riconosciuto e acclamato come nuovo princeps e così inizia il nuovo regno la nuova era e a questo giro agrippina pensava che non solo sarebbe stata la protagonista la protagonista la coprotagonista ma sarebbe stata la protagonista assoluta è quasi certo che per agrippina la giovanetta del figlio unita alla sua inesperienza sulla quale ci si poteva lavorare e al suo spirito artistico ed edonista che questo già era un po più difficile da soffocare ebbene lei ritenesse che tutto ciò fosse una fortuna dal momento per lei dal momento che lei puntava puntava lei per prima a ritagliarsi un ruolo di primo piano all'interno del governo dell'impero in ciò si mise su un piano totalmente diverso da quello della bisnonna livia che governò sì ma sempre da dietro le quinte probabilmente dopo aver mantenuto un profilo basso per tutti gli anni del matrimonio con claudio agrippina era convinta che ormai i tempi fossero maturi e soprattutto era sicura di avere tutti gli alleati necessari affinché i suoi piani andassero a buon fine e per quei primi tempi e per i primi mesi di regno di nerone fu così nerone teneva in grandissima considerazione sua madre e i suoi consigli che lei gli dava purtroppo agrippina non aveva considerato alcuni fattori importanti non aveva considerato che alcuni suoi antichi alleati si sarebbero coalizzati contro di lei per estrometterla dal governo e che il suo stesso figlio come già aveva fatto tiberio con livia a suo tempo aizzato da quegli stessi ex alleati iniziasse ad essere parecchio insofferente e recalcitrante nei confronti della madre ritenuta troppo invadente infatti il filosofo senica e il prefetto afranio burro fecero muro contro agrippina con lei che proprio li aveva portati così in alto mettendole contro il figlio nerone facendo anche leva in ciò sul carattere fatuo e capriccioso del giovane nerone se agrippina era convinta che ci volesse la severità per addrizzare il figlio e per fargli capire che per essere un princeps doveva mettere la testa a posto avere il potere non significava avere degli onori ma bisognava avere anche dei doveri senica e burro erano invece convinti che si potevano prendere più mosche col miele che con l'aceto e quindi incentivavano i piaceri e i capricci di nerone convinti che l'essere soddisfatto nei suoi desideri lo rendesse molto più ben disposto verso gli altri col senno di poi manco a dirlo i tempi avrebbero dato ragione ad agrippina ma in quel primo frangente il vento soffiò a favore dei due ex alleati di agrippina e quest'ultima si ritrovò sempre più esclusa dalle pratiche del governo le venne fatto notare senza nemmeno troppi giri di parole che lei in quanto donna non poteva in alcun modo esercitare alcun diritto all'interno dell'impero ciò forse non contribuì nemmeno non aiutò il fatto che agrippina in quei primi mesi si fece terra bruciata attorno eliminando tutti i suoi antichi nemici ricorrendo alle condanne a morte all'esilio e all'omicidio su commissione come ad esempio nel caso del liberto narcisso che l'aveva osteggiata ai tempi del suo matrimonio con claudio fu in questo frangente quando sentiva di star già perdendo il suo appiglio sul figlio che gli storici inseriscono una reazione di agrippina nei confronti di nerone ovvero nell'anno 55 gli paventò la minaccia di opporgli britannico il figlio di claudio che era tenuto relegato nella sua casa lontano dagli occhi dei cittadini romani e che stava per raggiungere quella che per l'epoca era la maggiore età ovvero i 14 anni agrippina minacciò apertamente nerone di sostenere britannico e di portare gli eserciti dalla loro parte per detronizzarlo e restituire la carica di princeps al legittimo erede di claudio e in questo agrippina avrebbe potuto avere tecnicamente gioco facile perché lei aveva le guardie pretoriane dalla sua parte le erano molto fedeli però ci sono un po di dubbi al riguardo soprattutto alla luce di quanto avvenne in seguito se diamo per vera questa storia possiamo valutare tre possibili ipotesi o agrippina commise un'azione avventata o era disperata al punto da credere di non avere altra scelta o semplicemente sperava di riattirare a sé il figlio blefando e facendo leva sui suoi timori di una sollevazione risulta difficile pensare che agrippina potesse davvero pensare di fare da porta bandiera per il figliastro britannico dopo che gli aveva non solo avvelenato il padre ma anche portato via il titolo di princeps in favore di nerone agrippina era troppo intelligente per non capire che britannico sarebbe potuto essere una scheggia vagante più pericolosa di nerone che poteva ancora essere controllato e riportato dalla sua parte quindi io sono molto più propenso a credere che lei con questa minaccia volesse solo spaventare nerone ma a quanto pare sottovalutò quello che suo figlio poteva fare se messo alle strette o se contraddetto l'11 febbraio del 55 sempre nel pieno di un banchetto britannico che all'epoca stava per compiere 14 anni anzi li avrebbe compiuti proprio il giorno dopo manco a dirlo ebbene nel pieno di un banchetto britannico si accasciò sul suo triclinio così di botto sotto gli occhi di tutti i commensali sotto gli occhi del fratellastro nerone che diceva no non preoccupatevi e mio fratello ha avuto uno dei suoi soliti attacchi di epilessia servi riconducetelo nelle sue stanze e voi continuate il banchetto senza problemi non è successo niente sotto gli occhi della sua sorella maggiore ottavia che probabilmente avrebbe voluto gettarsi sul fratello per soccorrerlo ma che aveva già imparato in maniera crudele perdendo prima la madre poi il padre e adesso il fratello che se voleva sopravvivere in quel mondo doveva imparare a dissimulare e sotto gli occhi di agrippina che forse si rese conto in quel modo solo in quel momento di aver perso la partita con suo figlio oggi molti storici ritengono che quella di britannico non fu una morte per avvelenamento ma bensì si trattò di un violento attacco di epilessia della quale come abbiamo detto il giovane soffriva sin da bambino sebbene la tesi dell'avvelenamento sia comunque data per buona da altri considerata anche la tempistica della sua morte cioè è troppo assurdo che sia morto proprio il giorno prima che lui compisse la sua maggiore età non lo so c'è un po un dubbio al riguardo a questo punto in maniera molto strategica agrippina chinò il capo di fronte al figlio ma solo per il momento in fondo non era nulla che lei non avesse già affrontato in passato sotto tiberio sotto calicola sotto messalina e stavolta essendoci suo figlio aveva magari più speranze di riuscire a risalire piano piano la china anche se lentamente con molta cortezza anche se dovete ingoiare molti rospi come il vedersi tolta la scorta armata dei suoi fedelissimi pretoriani mostrando comunque una buona volontà col passare degli anni tra agrippina e nerone i rapporti sembrarono distendersi di nuovo anche se non mancarono a questo giro voci di un rapporto disdicevole tra madre e figlio per dirvela in maniera nuda e cruda si iniziò a mormorare o comunque gli storici successivi questo mormorano che nel tentativo di ristabilire la sua posizione agrippina sarebbe arrivata a sedurre il suo stesso figlio come ho già detto molte volte in questa miniserie prendiamo con le dovute pinze queste voci le cose purtroppo cambiarono quando avvenne un fatto che la stessa agrippina non avrebbe mai potuto prevedere nerone si innamorò e non della sorellastra moglie ottavia che veniva regolarmente ignorata se non addirittura umiliata e offesa dal marito che non l'amava per niente ma bensì di si innamorò di poppea sabina una giovane donna proveniente da una famiglia pretoriana e fin da subito nerone rese chiara la sua intenzione di divorziare da ottavia per sposare poppea tutto ciò avveniva nell'anno 58 a questo punto agrippina si conto che avrebbe seriamente rischiato grosso perché poppea sarebbe potuta risultare una rivale molto più difficile da eliminare anzi visto il forte sentimento che il figlio provava per lei rischiava seriamente di essere soppiantata nel suo ascendente sul nerone e non bisogna dimenticare che agrippina non bisogna poi dimenticare un dettaglio importante agrippina credeva fortemente nella dignità nella nobilitas della gens julio claudia e un'unione come quella tra nerone princeps di roma e una donna non certo alla sua altezza soprattutto se seguita al divorzio da ottavia che non solo era un esponente di spicco della gens claudia ma era anche molto amata dal popolo romano per il suo carattere umano e le sue molte opere di carità ecco c'è anche questo grande timore di immagine c'è la consapevolezza che una simile unione sarebbe stata una rovina per l'immagine pubblica dello stesso nerone che già risentiva delle polemiche che sorgevano attorno a lui per la sua per gli stravizi alle quali si dava si rendeva in cui si rendeva protagonista protagonista assieme ai suoi favoriti ai suoi compagni di bagordi furono anche queste cose che spinsero agrippina ad opporsi ad una simile unione sarebbe interessante anche soffermarci un momento sul rapporto che doveva esserci tra agrippina e ottavia allora io su ottavia ho già realizzato un paio d'anni fa due tre anni fa un intero video su questa figura molto interessante della quale poco si racconta poco si sa ma che probabilmente ha molto da dire casomai vi lascio il link al video su ottavia la prima moglie di nerone qui nel pallino magico e andatevelo a recuperare ve lo consiglio allora per tornare al rapporto tra agrippina e ottavia è difficile che tra matrigna e figliastra che erano anche suocera e nuora ci fosse anche solo un'ombra di affetto ma di sicuro le due erano consapevoli che i loro destini erano più legati di quanto non sembrasse ad una prima occhiata agrippina era consapevole molto più di nerone come abbiamo detto dell'importanza che ottavia ricopriva sulla scena del potere di roma sebbene ottavia fosse la prima a non usare il potere per il proprio tornaconto ma in più e qui ritornava la lezione della bisnonna livia agrippina come abbiamo detto conservava un profondo rispetto per la nobilitas della loro dinastia dinastia nobilitas che ottavia comunque incarnava e la stessa ottavia sapeva bene che se si trovava ancora dove si trovava era anche grazie all'influenza di agrippina ancora poteva esercitare sul figlio ed era lei che più aveva il potere di difenderla da eventuali o meglio quasi sicure tempeste che stavano per addensarsi sul capo di ottavia adesso che l'astro di poppea era in ascesa e infatti agrippina con l'autorità che ancora emanava e che poteva esercitare sembrava essere l'unico ostacolo che si frapponeva tra nerone e poppea e fu proprio il potere che agrippina ancora deteneva e per il quale aveva lottato per quasi tutta la sua vita a segnare la sua fine quando nel 59 nerone prese la decisione molto estrema anche per quell'epoca di uccidere la sua stessa madre uccidere agrippina col veleno era praticamente impossibile chi usa e conosce il veleno come lei sa anche come rendersene immuni praticando il mitridatismo ottenendo sempre degli antidoti a portata di mano non restava che inscenare un tragico incidente nel marzo del 59 fingendo di volersi riappacificare con la madre nerone invitò agrippina nella sua villa a baia dove si sarebbero celebrate le festività dedicate alla dea minerva alla fine del banchetto agrippina si congedò dal figlio e salì su un'imbarcazione che lui le aveva molto gentilmente messo a disposizione e che l'avrebbe ricondotta ad anzio dove lei si era stabilita in quel periodo ma quell'imbarcazione era dotata di un marchigegno che ad un certo punto avrebbe fatto imbarcare acqua alla nave facendola affondare un tragico incidente l'augusta madre del princeps muore annegata in un naufragio mi chiedo se nerone sapesse che sua madre sapeva nuotare perché sì ovviamente agrippina si salvò e anzi capì anche che quello non era stato un incidente ma un deliberato tentativo di farla fuori se ne accorse quando vide che una sua ancella di nome una donna di nome acerronia che era finita in acqua vedendo una scialuppa distante per farsi venire a salvare si mise a urlare sono agrippina sono la madre del vostro imperatore salvatemi salvatemi e i soggetti presenti su quella scialuppa invece di tendere la mano per aiutarla credendo che quella donna fosse veramente agrippina presero i remi e la uccisero corchiandola di di remate e quindi cioè insomma e tutto questo agrippina lo vide da lontano insomma fai due più due e così capendo bene l'andazzo nuotando silenziosamente nonostante avesse una ferita alla spalla agrippina riuscì ad arrivare fino alla riva e si rifugiò a bauli dove pure aveva una sua abitazione subito la notizia che agrippina era rimasta coinvolta in un naufragio ma che si era salvata raggiunse subito le orecchie di nerone che subito c'è terrorizzato cadde in preda al panico era convinto non sapeva che fare era convinto che la madre avesse subodorato il complotto e fosse pronta ad aizzare le guardie pretoriane alle fedeli contro di lui invece agrippina pensando di salvare le apparenze pensando che salvare le apparenze e fingere di non aver capito che era stato tutto un complotto ai suoi danni fosse la mossa più intelligente da fare mandò un suo servo da nerone per assicurarlo sulla sua buona salute ma nerone cosa fece colse la palla al balzo e non appena vide il servo di sua madre gli gettò una spada per terra davanti ai piedi e lo accusò di essere un sicario mandato da sua madre venuto per ucciderlo in questo modo nerone sperava di giustificarsi davanti a tutti e di ripulire la sua immagine fin troppo sporca ordinò quindi ai suoi soldati di andare alla villa di bauli per eliminare definitivamente sua madre salvo poi spargere la voce che sua madre si fosse tolta la vita da sola non appena scoperto che il suo complotto ai danni del figlio era andato era andato a donnine certo ragazzi nerone aveva una capacità di arrampicarsi sugli specchi in maniera grossolana che i nostri politici oggi proprio ce avrebbero da imparare gli ultimi istanti di vita di agrippina sono degni della sua intera esistenza circondata dai soldati che irruppero nella sua stanza da letto fino all'ultimo lei si disse sicuro disse di non credere che proprio suo figlio fosse il loro mandante al che uno dei soldati la colpì alla testa col pugno della sua spada con l'intento di stordirla per rendere più facile il loro compito ma agrippina non era donna da morire per terra o in ginocchio subito si rimise in piedi si sollevò la parte superiore della sua tunica scoprendo il ventre e disse colpite qui colpite il ventre che ha generato colui che adesso mi uccide se la storia della profezia dell'indovino caldeo è vera probabilmente ad agrippina tornò proprio in quel preciso momento tornò in mente la profezia che le era stata fatta al tempo della nascita di suo figlio proprio quando la profezia giungeva finalmente a compimento suo figlio avrebbe regnato ma l'avrebbe fatta uccidere così moriva agrippina minore all'età di 43 anni l'ultima augusta della dinastia giulio claudia così come era nata in pieno alone di figaggine usci di scena in maniera altrettanto figa quasi a livello di lady olenna tyrell vedete un po voi stiamo a quei livelli di figaggine così con la sua morte si concludeva la lunga sequenza delle donne che avevano lottato per il potere in quei primi decenni dell'impero romano ma altre ne sarebbero seguite con la morte di agrippina nerone perse ogni freno e da qui in poi il suo dispotismo raggiunse livelli altissimi a farne le spese fu fu prima di tutti la sua sventurata sorellastra moglie ottavia che rimasta senza agrippina a proteggerla si vide negli anni successivi prima privata del titolo di consorte del princeps poi accusata ingiustamente di complotti ai danni dell'ex marito relegata sulla ormai tristemente nota isola di ventotene e lì fatta uccidere dai sicari di nerone e di poppea che non le avevano perdonato la colpa di essere molto amata dal popolo di roma ottavia non sarebbe stata l'ultima vittima di nerone anche seneca e afranio burro i antichi alleati e poi traditori di agrippina che tanto avevano che i primi erano stati primi responsabili della rottura dei freni di nerone ebbene loro stessi rimasero vittimi di questo metodo diseducativo e rimasero vittime delle epurazioni degli ultimi anni di regno di nerone il quale concluse tragicamente la sua esistenza quando venne deposto dal senato e in fuga dai pretoriani fu costretto a farsi togliere la vita da un suo servo per evitare di finire in mano ai soldati con nerone aveva fine la prima dinastia dell'impero romano ma l'impero era ancora ai suoi inizi ma questo è materiale per future video lezione di quali magari parlerò in futuro bene io concludo così il video e concludo anche questa miniserie dedicata alle prime donne dei primi anni dell'impero romano in conclusione ci tengo ancora a ringraziare la carissima tiziana che mi ha fornito le biografie di livia di giulia e di agrippina maggiore per i primi tre video di questa miniserie per quanto riguarda questo video invece mi sono basato sul testo io agrippina di andrea carandini allora non so se consigliarvelo come testo è molto interessante perché qui l'autore cerca di magari di riportare in vita l'autobiografia perduta di agrippina creando una narrazione in prima persona il problema è che questa narrazione ha molti problemi prima di tutto il fatto che l'autore usi la datazione avanti cristo e dopo cristo cosa che la vera agrippina non avrebbe mai utilizzato c'è agrippina avrebbe utilizzato la datazione dalla fondazione di roma quindi a burbe condita se vuoi farmi un lavoro fatto bene mettimi la datazione a burbe condita per rendere comunque più realistico questa finzione narrativa e magari tra parentesi mi metti la datazione avanti cristo e dopo cristo c'è semplice una una semplice accortezza e poi un altro problema è che andrea carandini è un archeologo più che uno storico di conseguenza lui c'è è un bravo archeologo sa fare il suo mestiere lo si capisce e lo si capisce dal modo in cui lui descrive le abitazioni i palazzi augustei in modo in cui vengono restaurati a mano a mano però il problema che può interessare agli addetti ai lavori ai chi è appassionato di archeologia a chi non è molto appassionato come me la cosa può risultare pesante c'è viene data molta più importanza agli ambienti domestici al fattore archeologico alle restaurazioni dei palazzi più che agli avvenimenti storici in sé per sé a un certo a una certa e questo rende secondo me rende un po pesante la narrazione anche perché anche in questo caso la cosa stona parecchio in bocca ad agrippina che si concentrerebbe molto più sui affari di stato e sugli avvenimenti più che sul modo in cui sono in cui sono formati i palazzi come sono come sono strutturati come vengono restaurati eccetera eccetera non ce la vedo agrippina a fare questo quindi è un testo che vi consiglio solo se siete curiosi di conoscere un po di più agrippina se siete magari interessati a al contesto architettonico archeologico personalmente non ve lo consiglio se cercate una lettura proprio così di di godimento ecco a me ad esempio mi ha un po annoiato lo dico francamente mi è stato utile per la creazione di questo video ma finisce lì non è un libro che mi tornerò che ritornerò a leggere o a consultare in seguito non mi sento invogliato a farlo comunque se volete io vi lascio il link amazon qui giù nell'info box per acquistarlo se lo acquistate da questo link amazon voi non pagate nulla di più a me mi entra una piccolissima percentuale stessa cosa per tutti gli altri libri che vi lascio con i link di affiliazione amazon qui giù nell'info box per quanto riguarda la bibliografia allora agrippina compare sicuramente nel secondo romanzo di robert graves dedicato all'imperatore claudio ovvero il divo claudio in cui comunque compare sul finale e di conseguenza lei compare anche nella miniserie io i claudius la miniserie britannica del 1976 in cui compare nel tredicesimo e ultimo episodio poi sempre per quanto riguarda la bibliografia compare anche nella dinastia di andrea frediani ma come ho già detto è una lettura molto molto da spiaggia che va a scavare proprio nella leggenda nera quindi qui agrippina non è che ci fa la figura proprio più equilibrata molto più interessante invece la sua comparsa nell'unica fabula pretexta giunta fino a noi le fabule pretexte sono le tragedie di carattere storico nate nell'ambito dell'arte romana non ce ne sono giunte di complete fino a noi tranne questa qua ovvero l'octavia che venne composta al tempo dell'imperatore vespasiano flavio si pensava iniziamente che fosse stata scritta da seneca ma in realtà sappiamo che il seneca non è l'autore l'autore viene definito come pseudo seneca e agrippina compare a metà di questa tragedia che è incentrata sulla vicenda di ottavia la prima moglie di nerone agrippina compare a metà della tragedia sotto forma di spirito che esce dagli inferi per preannunciare la futura fine di nerone suo è molto interessante perché di solito queste figure di anime che scendono dall'inferno o di divinità che scendono dall'olimpo vengono di solito posizionate all'incipit delle tragedie all'inizio come preambolo come prologo è piuttosto strano che una simile espediente venga messo a metà di una tragedia ciò quindi ha fatto pensare a molti studiosi a molti critici che o si sia trattato di un'aggiunta successiva oppure di un errore nel riportare il testo quindi di conseguenza questo spettro di agrippina sarebbe dovuta comparire come prologo ma nelle successive copiature di questa fabola pretexta venne erroneamente collocata al centro e così è rimasta fino ai giorni nostri per quanto riguarda la filmografia ho già detto che agrippina compare nel tredicesimo episodio di Ike della miniserie britannica del 76 Ike Claudius per quanto riguarda invece più rappresentazioni più note non posso non citare la rappresentazione che è stata fatta di agrippina nel film comico del 56 mio figlio nerone dove ragazzi se non avete visto mio figlio nerone andatevelo a vedere che è una cosa veramente divertente non è tanto un biopic è una commedia che prende appunti storici e lì della storia di nerone tra i quali anche i tentativi di eliminare la madre compreso l'episodio dell'imbarcazione ma tutto quanto in chiave comica qui nerone è interpretato da uno straordinario alberto sordi proprio in stato di grazia che rappresenta un nerone convinto di essere un grande cantante un grande artista ma qualche in realtà è un cane è un pessimo poeta un pessimo cantante del geniale straordinario alberto sordi grande albertone poi abbiamo brisitte bardone ruolo di poppea vittorio de sica un vittorio de sica molto annoiato in questa interpretazione che interpreta seneca e a interpretare agrippina c'è una delle grandi dive della di hollywood gloria swanson la norma desmond di sunset boulevard o viale del tramonto che interpreta una agrippina più vecchia di quanto non fosse in realtà perché gloria swanson mi pare avesse già la sua bella età quando interpretava questo film mentre invece agrippina è morta a soli 43 anni quindi era piuttosto giovane però è funzionale è bella questa immagine di questa madre anziana arcigna petulante tipo la madre di la signora la madre del presidente skinner nei simpson più o meno siamo a quei livelli sono divertentissimi le scene tra lei e alberto e nerone sono proprio l'apice della commedia ragazzi per me quel film è geniale io lo metto alla pari con ferdinando e carolina per quanto riguarda i film storici di carattere comico perché anche con i film storici si potrà fuori un po di commedia bellissimo e in conclusione poi c'è la miniserie rai il che è tutto dire del che venne realizzato nel 2004 su nerone allora questa miniserie è un un disastro storico romanza praticamente tutta la storia di nerone fa di tutto per farlo sembrare un personaggio positivo c'è una una monta un cumulo di inesattezze storiche una dietro l'altra ragazzi guardate se cercate l'accuratezza storica questo nerone miniserie tv per la rai è la cosa più orribile che si possa creare abbiamo qui hans matison che interpreta hans matison che interpreta nerone a interpretare agrippina c'è laura morante che è forse una delle poche cose che si salva ad esempio la parte della sua morte mi ricordo che ha molto appunto molto una grande figaggine qui non solo c'è la scena di lei che dice colpisci al vento e che ha generato nerone ma si vede proprio lei che si getta con la forza con la rabbia della disperazione sulla spada ma per il resto ragazzi è facilmente praticamente dimenticabile come prodotto televisivo io non ve lo sconsiglio totalmente proprio non perdeteci tempo e basta non penso di poter dire altro io quindi concludo qua il video e concludo così la miniserie e mi prendo un po una piccola pausa dalle miniserie devo il pro questo mese di maggio sarà un casino perché devo preparare già i video per il pride month di giugno perché a giugno c'è anche house of the dragon quindi devo fare le mie video recensioni e intanto in questo periodo c'è anche gli spettacoli teatrali ragazzi ve l'ho detto livelli di stress anche al di fuori della schermata della schermata ragazzi io non arrivo vivo a fine giugno ve lo dico va bene mi rimbocco le maniche e mi metto a lavoro in questo periodo farò uscire altri video sicuramente infatti ve l'ho detto il prossimo appuntamento sarà il prossimo video sarà l'ultimo appuntamento a tema con history of the dragon prima quindi dell'inizio della serie di house of the dragon quindi dedicato a un episodio di cui ho parlato in questo video che farò ci farò il parallelismo con il solito parallelismo martiniano poi vedrete alcuni di voi già avranno capito di che parlo quindi concludo qua il video spero che vi sia piaciuto lasciatemi un like se così è stato commentate ditemi la vostra su cosa ne avete pensato di agrippina se vi è piaciuta come personaggio se avete preferito invece olivia giulia o sua madre agrippina maggiore ditemi voi la vostra nei commenti iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video mettete mi piace alla mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete vi ricordo che se volete sostenere il mio canale vi lascio la mia watch list di amazon qui giù nell'info box vi invito ad acquistare i libri e i dvd dai link amazon che vi lascio qui nell'info box condividete questi video aiutatemi ad avere più pubblico sono quelle piccole cose che aiutano il mio canale a crescere sempre di più ormai siamo quasi indirittura d'arrivo dei 2000 iscritti e già sto pensando a qualcosa per festeggiare i 2000 iscritti poi vedrete e ci vediamo al prossimo video alla prossima e ciao video